Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni travi meteo. Possiamo osservare come mercoledì la discesa di correnti più umide e fresche oceani che innescheranno qualche fenomeno su parte della nostra penisola. Anticiclone infatti defilato più ad ovest tra il sud della Francia, la Spagna ed il Portogallo. Andiamo a dettaglio della precipitazione con una zoom Europa e possiamo osservare dei piovaschi che si formeranno ancora sull'estremo nord-est ma poi durante il pomeriggio regioni centrali, parte del nord, qualche fenomeno che giungerà entro fine giornata anche sulla campagna. Nel dettaglio quindi una condizione di variabilità tra momenti soleggiati ma anche qualche piovasco breve temporale su alcune zone del nord tra il pomeriggio e la serata e poi regioni centrali. Resiste l'alta pressione all'estremo sud ma in serata dei fenomeni giungeranno sulla campagna, anche qui un contesto di variabilità. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti li trovate sull'app di Trebi Meteo.